I ragazzi di De Giorgi hanno battuto una repubblica cieca aggressiva soprattutto nel primo set. Tomorrow alle 2200 dipende da Qatar nel secondo set Italia mostra i valori sul campo. Nel mezzo della frazione il gioco è ancora un po' equilibrato. Ma i blu sono superiori. Il set si chiude con una bella schiacciata di Romano 2518 in 27. I conti. I conti. Sono disegnati. L'equilibrio ritorna nel terzo set. Micheletto è preso di mira in servizio De Giorgi inserisce Rinaldi e il frantoio moderno si rivela. Un'arma efficace per tenere a bada i ciechi chiudere il set. Nel quarto il dominio blu è chiaro e l'Italia chiude il conto. E i 10 punti alla fine per Romano e 14 per Lavia, mentre il Galassi Central si chiude con 12.